Cioè veramente sono qua E' un po' grave come cosa Ma 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 lei è sicuro di questo corpo di polizia? E io ho un guadagno 40 New school racconti quello che ha raccontato a noi Ok però non voglio... Ok vai racconti Quanto? 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 Quanto viene il pesce? Guarda Madonna santa Eccolo! Eccolo eccolo! Fermate fermate Alla caserma La caserma Eccolo 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 No fra Fra Che cazzo fa Eccolo 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 Laboratorio Laboratorio Eccolo 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 Io Io conosco Io conosco Io conosco Io conosco Io conosco Io conosco una persona Che forse ha questa passione Scusatemi se interrompo Ma lo sa che lei non sono sardo però Allora Le nostre pecore Si utilizzano solo per determinati scopi Ok Quanto costa una capra intera? No 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 Noi siamo per il rispetto degli animali Abbiamo già capito No 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 Il tesoriere fa il furbo Il tesoriere Il tesoriere non mi convince Allo sguardo furbo Il tesoriere non Oh ragazzi Mi state uccidendo bastardi Oh che state a fare voi con le torce? Ho sentito torce? No No niente niente Non ti preoccupare Stiamo facendo tutta Tutta roba legale Oh la luce legale Ragazzi Pagate le bollette a me no? Ma con le torce Io l'ho fatto Oh 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 Ho messo dall'entrata Cazzo Ma che cazzo quanti ne siete? Porco dio 4 Ma quanta gente c'è qua dentro Cazzo Maronna cazzo 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 Ragazzi Osiris è qui, la città Ma che cazzo sei? Eccoci Sono morto Ragazzi Che cazzo succede? Ragazzi c'hanno qualche c***o Ragazzi vai tutti insieme E' il califato, sta arrivando ragazzi E' il califato Che c***o Ultima di baciazzate